buonasera a tutti stiamo per andare a trovare signore e signore una coppia d'eccezione abbiamo la nostra eleonora cassandra spago e signore e signori samantha ma non possiamo nemmeno cambiarci un po tranquillamente stasera noi dobbiamo lavorare facciamo lap dance ci vede trovare in tanti ti piace guardare questa nemica samantha a milani era tutta sola con borsette ho detto tu puoi guadagnare come tante cosini come sta la mia nuova pettinatura mentre un po' che tira un po' su così puoi vedere non ho visto bene ma si tira un po' un po' lesbica questa samantha allora amici noi salutiamo tu becchini è tanto bello è bello si si ha tutto il minuto grazie a una papparangia però paga mi se ne freghi con la papparangia ti piace molto adesso noi andiamo a trovare qui un un gestino che fa un po' barconcino un po' barconcino la malta è assomini un po' questa gina come no 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 va bene ne salutare ne salutare e messo per i zoni ho messo anche per i zoni bisogna levare perchè vieni tu vuoi senza mutandini ah ecco eh 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 Grazie.